E allora lo diciamo, noi sappiamo bene qual è la parte che dobbiamo fare, sappiamo anche i limiti che abbiamo avuto, sappiamo che dobbiamo rilanciare la contrattazione, ma lo diciamo da tutte queste piazze, non basta che si muovano i lavoratori e le loro organizzazioni se non c'è la responsabilità di tutti gli altri. E allora lo diciamo alle forze politiche, abbiate la responsabilità di utilizzare le finestre che sono aperte, di parlare di programmi, di rimettere al centro il lavoro, perché non se lo merita questo Paese di andare di nuovo alle elezioni anticipate, ha bisogno di responsabilità e di risposta e ce l'ha bisogno innanzitutto il lavoro. Buon primo maggio, viva il primo maggio, viva Cigilella e Cisle Will!